Start, 2, 1, Mission, and Liftoff! NordVPN era ormai entrato nelle pubblicità di tutti gli youtuber che tutti si vendevano a sponsorizzare questo servizio e mi ha fatto molto ridere perché ho ricevuto, io gli ho dato ragione perché non reggo più, io salto direttamente quindi chiunque veda questo video e fa promo di NordVPN sappia che io salto a pie pari lo spot perché non mi interessa e lo trovo anche un po' fastidioso e pesante. Mi fa molto ridere la cosa che io ho ricevuto questa mail, una proposta di cooperazione, io poi non ci ho fatto caso, ci sono tornato sopra per leggermela effettivamente e ci sono delle cose che non mi tornano e voglio fare questo video solo per mettervi in guardia da tutto quello che ricevete. Prima di tutto, uno, non mi chiamano per nome, nella mia mail c'è il mio nome insomma, o chiamami perlomeno Indie Gameplay Ita, no. Non c'è una firma, ci sono i classici distinti saluti, i cordiali saluti NordVPN, ma non c'è nessun tizio. È molto comodo avere un nome perché uno fa la ricerca in LinkedIn e vede effettivamente chi è la persona che gli ha scritto. Ultima cosa, ma non ultima, tutto il resto. Uno, mi dicono di scaricare da un archivio da mega.nz con un file, un archivio con una password, mandami un leaflet, insomma un qualcosa, un pdf allegato in mail piuttosto. E qua in alto, importantissimo, ed è la cosa più importante, è vedere da dove ricevi, ricevete la mail, hello, chiocciola, nordpromo.co tramite yander.ru, la patria degli hacker, la Russia. Tra l'altro sotto qui c'è una scritta in russo che ho tradotto e dice disiscriviti da questa newsletter, quindi io chissà a cosa sono iscritto, chissà a cosa mi hanno raggiunto. Ma un'altra cosa che mi ha fatto riflettere molto è questa. Notando le impressionanti performance del tuo canale. Bene, volete acquistare da questa imponente crescita del canale? Non tiratemi per il culo. Grazie. No, più che altro perché è tutt'altro che impressionante performance del canale. Più che altro, anche perché vi racconto questo piccolo aneddoto, quando sono stato invitato, uno dei punti più orgoglio per me, insomma, da Microsoft a partecipare a una conferenza dove ho fatto il video, insomma, sui giochi indie in uscita. Io gli chiesi, ma perché a me? Cioè, nel senso, e loro mi risposero, beh, per la tua verticalità nel trattare i titoli, appunto indie, perché ne tratti tanti, e per, appunto, la serietà, il non fare stupido in video. Insomma, questo mi aveva colpito molto un mio ragionamento. Ora, voglio solo mettervi in guardia, insomma, da queste mail, questa è solo la punta dell'iceberg, perché tutte quelle mail in cui vi dicono log in banca perché non puoi più entrare. Vi do un consiglio, quando ricevete una mail che è abbosta a banca, effettivamente, i loghi sono quelli, guardate sempre due consigli. Guardate sempre la mail da dove arriva, e guardate soprattutto se vi chiamano per nome, o vi dicono, voi vi chiamate mariorossichiocciolagmail.com, ok. Se vi dicono, gentile, rossichiocciolagmail, quello che è, mariorossichiocciolagmail, gentilemariorossichiocciolagmail.com, no. Vi chiamano nome, cognome e numero di conto, piuttosto, e fate l'operazione inversa. Vi dicono che è bloccato il conto, bene, andate con la vostra app e vedete se entrate sul conto, andate sul sito della banca ufficiale controllato col lucchettino vicino all'indirizzo e loggate. Se ci sono problemi, sono lì, ma soprattutto vi chiamano se ci sono dei problemi. Quindi, ecco, voglio solo mettervi in guardia perché secondo me tanta gente ci casca. Io non so cosa ci sia in questo archivio, probabilmente magari niente, probabilmente è una vera offerta da NordVPN, ma mi puzza tanto per queste cose. Quindi state sempre in campana, come dice il buon Mr. Delric. Ragazzi, con questo è tutto, al prossimo gameplay, ciao ciao.